Far conoscere il piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker, e illustrare le potenzialità del patrimonio culturale, materiale e immateriale, come fonte di modelli per uno sviluppo sostenibile, una delle priorità del programma Horizon 2020. Sono tutti argomenti che verranno trattati in un convegno scientifico che si terrà all'Aquila venerdì 18 e sabato 19 maggio all'auditorium del Parco del Castello, dal titolo Integrazione Europea, Sviluppo Locale e Patrimonio Culturale, il caso dell'Abruzzo, presentato in conferenza stampa dall'erettrice dell'Ateneo, Paola Inverardi, un evento che è stato organizzato infatti dall'Ateneo Aquilano in partnership con il Gansasso Science Institute, la Cassa Ripositi e Prestiti, la Fondazione Maglioresta, la rappresentanza in Italia della Commissione Europea e il Comune dell'Aquila. La prima giornata ospiterà anche la tappa abruzzese del Tandem Tour, realizzato dalla Commissione Europea e dalla Banca Europea degli Investimenti, in collaborazione con la Cassa Ripositi e Prestiti, per illustrare appunto le opportunità del piano Juncker. Un'opportunità, secondo l'erettrice, anche per vedere i casi locali. Sarà proprio un'occasione nella quale cercheremo di dare un contributo un pochino più concreto, cioè mettere in evidenza le cose che stiamo facendo, finanziate sotto varie forme o in attesa di finanziamenti, con le opportunità concrete che ci possono venire dalla Comunità Economica Europea e il piano Juncker. Noi chiaramente cerchiamo sempre di agire un po' come innesco e cerchiamo di sollecitare anche il territorio perché poi queste opportunità diventino, al di là della possibilità di prendere un no dei finanziamenti, perché poi si traducano in condizioni strutturali che effettivamente corrispondono a un miglioramento della qualità della vita, del lavoro, delle opportunità di lavoro sul territorio necessitano del contributo di tutti gli attori. Quindi il tentativo è stato proprio quello di mettere intorno al tavolo imprese, istituzioni, comunità economica europea, università e cercare di portare avanti un pochino di più i ragionamenti e dare la prospettiva un po' più concreta di creare opportunità.